Ciao a tutti sono Stefano Castiello e benvenuti anche oggi in un nuovo video voglio subito aggiornarvi con quello che è successo in questi giorni col token Tonic perché purtroppo non ha seguito la scia positiva di Bitcoin e sta continuando a crollare e voglio anche aggiornarvi con quello che farò io con i miei token detto questo adesso però iniziamo subito perché voglio anche spiegarvi cosa è successo questa notte con Bitcoin poiché abbiamo visto un dump interessante per vari motivi di cui parlo in questo video ora iniziamo subito però prima di iniziare è importantissimo come dico sempre lasciare un bel mi piace per supportarmi e per rimanere aggiornati 24 ore su 24 su tutto quello che pubblico iscrivetevi al canale attivando anche la campanellina qui in basso detto questo adesso davvero iniziamo subito per quanto riguarda la situazione del mercato nelle ultime 24 ore purtroppo Bitcoin ha di nuovo rotto la zona di 40.000 dollari per scendere sotto 39.000 e si sta avviando anche verso 38.000 la cosa interessante che volevo mostrarvi è questa qui di Shiba Inu che è ormai da giorni e giorni in trending su CoinMarketCap come si vede qui al primo posto al secondo posto c'è un'altra crypto che non conosco che si chiama BNBback e al terzo posto c'è Shib Doge Bitcoin cosa è successo questa notte vi parlo sempre di Bitcoin perché in base alle move di Bitcoin ovviamente il mercato reagisce di conseguenza ora voglio mostrarvi una cosa super interessante sul grafico questo qui il grafico BTC USD di 15 minuti cioè ogni candela corrisponde a 15 minuti perché qui si capisce bene cosa è successo ho fatto un attimo un'analisi un po' veloce in poche parole Bitcoin alle 2 e mezza di questa notte ha raggiunto i 41.000 era sui 41.929 poi all'incirca fino alle 5 di mattina è sceso con varie candele rosse fino a 40.000 questo perché ci sono state alcune notizie negative che hanno permesso che hanno potuto permettere questo dump e dalle 5 e mezza di mattina dalle 5 di mattina il prezzo è sceso addirittura verso i 39.000 38.000 che ha toccato all'incirca verso stamattina alle 9 e mezza abbiamo visto quindi questo bel pump il 9 marzo io vi ho detto subito attenzione perché potremmo essere riassorbite infatti così è stato il prezzo di nuovo ha reagito in maniera negativa e sta riscendendo questo perché per dei motivi ben specifici di cui ho parlato anche stamattina su Instagram quindi per chi non mi seguisse seguitemi su Instagram perché vi aggiorno 24 ore su 24 su tutto quello che succede nel mondo cripto e vi ho detto questa cosa che è un indirizzo fermo da 11 anni contenente 489 bitcoin che ora valgono 20 milioni di dollari è stato attivato questa notte è vero 20 milioni di dollari non sono tantissimi ovviamente però questa notizia insieme ad altre di cui parlo tra poco hanno permesso questo dump e cosa incredibile davvero è che nel 2010 questo indirizzo valeva 50 dollari quindi questa persona ha realizzato un profitto del 404 mila per ragazzi cosa assurda davvero 50 dollari trasformati in milioni di dollari che fegato che ha avuto per non vendere a novembre ad esempio quando i prezzi oppure quando anche bitcoin era sui 10 mila 20 mila però e quindi questo all'incirca è accaduto verso le due e mezza di notte il prezzo per questo forse è sceso poi verso le 5 c'è stata un'altra notizia da parte del The Verge perché il fondatore di Tron Justin Sun sta affrontando le indagini della SEC dell'FA FBI statunitensi che coinvolgono più di 10 conteggi Tron è una chain spesso utilizzata perché ha commissioni molto basse anche l'utilizzo spesso è stato indagato dalla SEC e dall'FBI quindi notizia negativa ovviamente per il prezzo e questa notizia è uscita super giù verso le 5 da parte del The Verge e alle 5 poi il prezzo ha continuato a crollare quindi potrebbero essere stati questi qui catalizzatori negativi che hanno permesso questa discesa non lo sapremo mai però vi sto solo mostrando le cose come stanno però adesso passiamo subito a Tectonic che è quello di cui voglio parlarvi in questo video perché nelle ultime 24 ore sta registrando un meno 6% e purtroppo se facciamo uno zoom out sul prezzo vediamo che da 7 giorni sta continuando a scendere nonostante il mercato abbia avuto diversi pump soprattutto vi sto parlando di bitcoin e in molti mi avete fatto notare questa cosa anche io seguo i ragazzi Tectonic non è perché non ve ne parlo su YouTube non seguo più il progetto perché anche io ho investito i miei soldi in Tonic soprattutto utilizzo la piattaforma che la reputo ottima e ha un futuro incredibile se guardiamo invece il grafico che fa ancora un po' più paura rispetto a quello di prima vediamo che questo qui è il grafico giornaliero di Tectonic wrapped crow soprattutto vediamo che c'è stato un crollo incredibile ormai da inizio febbraio abbiamo visto il pump interessante già ve ne ho parlato in passato e il prezzo sta continuando a scendere per vari motivi e qui voglio dirvi una cosa un mio parere importante per farvi capire che questo progetto è nato da pochissimo tempo stiamo parlando anche di un progetto simile a VWS Finance nati entrambi sulla Kronos Chain che ripeto è stata creata da poco tempo quindi il potenziale sicuramente c'è è una piattaforma di lending e borrowing che funziona molto bene ci sarà anche a breve un iDrop e vi conviene seguirlo tramite la pagina ufficiale di Twitter di Tectonic per chi non lo sapesse un airdrop permette di avere dei token gratis e ragazzi Tectonic sta programmando questo airdrop però questo non è il momento migliore poiché il token Tonic sta crollando abbastanza però voglio solo farvi capire che data la situazione macroeconomica e geopolitica ve ne ho parlato spesso purtroppo progetti meno capitalizzati come Tonic stanno reagendo male a queste notizie bisogna vedere il mercato che si riprende e quando c'è questo bagno di sangue è qui che si fanno i veri affari perché se credete in un progetto e siete bullish per il lungo termine sicuramente poi se la vostra idea sarà corretta vedrete dei profitti in futuro ovviamente come al solito non sono consigli finanziari non vi sto dicendo di investire in Tonic io lo sto facendo personalmente perché ho studiato il progetto e credo che per il lungo termine ha tanto potenziale soprattutto se siete investitori e non traders non vi interessa che per ora il prezzo sta crollando perché siete investitori per il lungo termine che possono essere anche 6 mesi ragazzi non per forza 10 anni e soprattutto cosa è importante se non siete traders cioè se non volete sfruttare questi ribassi e questi rialzi ogni giorno ogni settimana ma siete investitori per il lungo periodo che non può essere per forza 10 anni anche 6 mesi non vi interessa se ora il prezzo di Tonic è basso perché ripeto se credete in questo progetto e pensate che possa avere un valore in futuro rimanete sempre della vostra idea non fatevi prendere dal panic sell non vendete così a caso perché è normale vedere queste percentuali negative poiché purtroppo la situazione è quella che è e lo sappiamo benissimo ormai tutti detto questo voglio farvi anche un paragone interessante con WWS Finance perché ragazzi se Tectonic avesse per ora la market cap cioè la capitalizzazione di mercato di WWS Finance di 235 milioni di dollari un Tonic varrebbe 0.000011 cioè sarebbe un 14 per e vi sto facendo in questo caso un paragone con WWS Finance che è anche un progetto nato sulla Chronos Chain come Tectonic un progetto recente e che ha un potenziale assurdo quindi solo se Tectonic raggiungesse WWS Finance in questo momento che anche lui purtroppo sta andando male ne parlo spesso sicuramente già fare un 14 per non è per niente male cioè quindi questo vi fa capire che bisogna essere pazienti un'altra notizia poi che ha scatenato un po' di panico sempre questa qui di Bill Gates riportata da Bitcoin Magazine che ha dichiarato di non essere bullish su Bitcoin cioè di non avere un futuro bullish per BTC però a noi non ci interessa e vi voglio anche specificare che Microsoft sta investendo nel metaverso quindi attenzione a queste parole non vi spaventate perché non ci interessa ripeto vi sono altre tante persone più importanti anche di Bill Gates che investono in Bitcoin e ci credono per il lungo periodo la cosa interessante che volevo mostrarvi l'altcoin season index perché stiamo continuando a salire ci stiamo dirigendo verso un altcoin season ovviamente non siamo ancora in altcoin season però il prezzo di BTC è crollato di più rispetto ad alcune altcoin e per questo il numero sta avanzando un altro dato importante che volevo mostrarvi è il Bitcoin Fear Grid Index che per adesso è al numero 28 cioè siamo in paura però ieri eravamo in estrema paura al numero 22 come si legge qui questo che significa significa che forse le persone già si aspettavano un crollo di Bitcoin dopo aver visto quel pump in questi giorni quindi potrebbe essere un segnale positivo come potrebbe essere anche un segnale negativo vediamo che succede come al solito io aggiorno sempre ah e per chi non avesse Instagram e volesse sempre essere aggiornato su tutto quello che pubblico ho anche un canale Telegram ufficiale che è qui in basso in descrizione qui in basso in descrizione trovate anche tutti i link per ricevere i bonus come in questo caso Young Platform che vi da 10 euro di bonus più 15 euro invitando 3 amici ci sono anche bonus di crypto.com per cro eccetera ah cosa importante volevo parlarvi anche del secondo canale che ho aperto insieme a un trader esperto in cui parleremo di ETF criptovalute analisi tecnica in modo semplice dalle basi qui in questo canale usciranno due video a settimana più specifici quindi senza nessun impegno con calma iscrivetevi detto questo grazie mille a tutti per la visione di questo video noi ci vediamo domani con la prossima avventura vi ricordo di lasciare un bel mi piace per supportarmi se non siete iscritti per rimanere aggiornati 24 ore su 24 su tutto quello che è pubblico iscrivetevi assolutamente al canale a domani ragazzi grazie grazie grazie